Una lite per futili motivi degenerata e così un 39enne avezzanese è stato denunciato dai carabinieri di Tagliacozzo coordinati dal capitano Edoardo Commandè per lesioni aggravate. I fatti sono avvenuti nella serata conclusiva dell'evento Gironi di Vini di Tagliacozzo, una rassegna enogastronomica molto conosciuta nella Marsica. Secondo i militari che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, l'uomo durante una degustazione vicino al Palazzo Ducale ha litigato con un 32enne di Roma, una lite degenerata come dicevamo nel giro di pochi minuti, tant'è che l'avezzanese ha scagliato un bicchiere di vetro sul viso dell'uomo di Roma, fuggendo subito dopo. Un episodio notato dai presenti che subito hanno chiamato il 112. Poco dopo sono intervenuti sul posto i militari ma l'autore del gesto si era già allontanato. Il ferito è stato curato per ferite e contusioni varie all'ospedale di Tagliacozzo dove gli sono stati riconosciuti otto giorni di prognosi. Per l'uomo di Avezzano si è proceduto d'ufficio trattandosi di lesioni aggravate.